ci sono cani che sono possessivi e sulla ciotola sull'acqua sono freddo non è stato freddo non è stato freddo non è stato freddo E' un po' di lungo lei? Si spettano. Da dove? Boh, non sta. Però le potezioni hanno una porzione di animale, ma chiamano la pagliacetta. Poi lo faccio. C'è una porzione di campo oppure.